Il test IDEX Enterolert 250 individua gli enterococchi in acqua imbottigliata in 24 ore senza bisogno di conferma. Enterolert 250 si trova nel formato da 250 millilitri e si usa solo per stabilire la presenza o l'assenza di enterococchi. Tra poco vedremo come usare il test Enterolert 250 per stabilire la presenza o l'assenza degli enterococchi. Occorreranno il reagente Enterolert 250, un flacone da 250 millilitri sterile e trasparente e un incubatore a temperatura controllata. Staccare una dose di reagente dalla sua confezione facendo attenzione a non aprire le altre. Aprire la confezione del reagente e versare la polvere nel campione d'acqua. Chiudere il flacone e agitare fino a dissolvere la polvere di Enterolert 250. Alcune particelle potrebbero non dissolversi. Incubare per 24 ore a 41 gradi centigradi con più o meno un grado di differenza o in base alle normative locali. Dopo l'incubazione, qualunque alterazione nel colore, da blu a verde, significa positività agli enterococchi. L'intensità dell'alterazione non ne rispecchia la concentrazione. In questo esempio, il campione a destra è negativo, quello a sinistra positivo. Se non si assicuri che il risultato sia positivo, confrontare il campione con uno sicuramente negativo. Tuttavia, se i risultati sono ambigui ad una lettura iniziale, incubare fino a 4 ore in più, ma non superare le 28 ore complessive per consentire l'intensificarsi del colore. IDEX consiglia di eseguire una procedura di controllo della qualità per ciascun lotto di test Enterolert 250. Tale procedura è reperibile nell'opuscolo Enterolert 250. Ricordarsi di incubare i campioni per 24 ore fino a un massimo di 28. Nessuna alterazione nel colore significa negatività agli enterococchi. Qualunque alterazione, da blu a verde, significa positività agli enterococchi. Rispettare sempre le seguenti linee guida. Per le diluizioni, usare solo acqua sterile non tamponata e priva di ossidanti. Conservare i test tra i 2 ai 25 gradi centigradi e adottare sempre tecniche assettiche. Poiché queste procedure potrebbero non corrispondere alle normative locali, per l'analisi di conformità, rispettare tutte le procedure previste dalle normative locali. Da ricordare, non è necessaria alcuna fase di conferma. I positivi prima delle 24 ore e i negativi dopo le 28 ore sono ugualmente validi. Smaltire tutti i campioni e i materiali nel rispetto delle normative locali. In caso di domande o per maggiori informazioni, contattare gli esperti di microbiologia dell'acqua IDEX al numero visualizzato sullo schermo.